È un evento che intanto apre la stagione delle rassegne dedicate a questo preziosissimo prodotto della terra che è il tartufo, quindi si capisce anche un po' le prime indicazioni arrivano anche per quanto riguarda l'aspetto economico, produttivo, quindi qual è potrebbe essere la stagione. E poi c'è questa serie di attività, di elementi, di iniziative che naturalmente rendono la manifestazione unica nel suo genere. Prima di tutto questo abbinamento tra tartufo, birra e territorio in generale. Il nostro ambiente è veramente un ambiente incontaminato, rigoglioso dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista del patrimonio culturale per cui diciamo che questo evento diventa una vetrina che sempre più di anno in anno attira visitatori e poi tutta la serie di iniziative, di momenti, di intrattenimento. Insomma, pensiamo che in due giorni si concentrano veramente tanti spunti e tante occasioni di divertimento e di convivialità. Si parte con il venerdì sera, con la proposta culinaria delle varie cantine e queste le cantine sono veramente il cuore della nostra manifestazione perché propongono piatti molto ricchi, molto curati, molto caratteristici. C'è questa doppia, diciamo così, direzione. Una è quella della tradizione, quindi della qualità nella tradizione, negli ingredienti, nella cucina che era la cucina di una volta. E poi c'è questa ricerca invece che guarda alla logastronomia con ingredienti tipici di qualità ma anche col desiderio un po' di innovarsi, di reinventarsi in questa attività di ricerca. La mattina di sabato aprirà le danze, aprirà l'inaugurazione istituzionale appunto insieme al sindaco Elisa Di Francesca questa notte campionessa olimpionica di scherma che è anche madrina dell'Altemarca. Per poi passare ovviamente a tanti spettacoli fino alla domenica sera che ci sarà il concerto di Oretta Berti ma puntiamo appunto, come abbiamo detto prima, sull'alogastronomia. Questo termine è un neologismo che è nato ad Apecchio appunto per rappresentare la birra al territorio, la birra abbinata al territorio, al prodotto di qualità, mentre per il vino esisteva il suffisso eno, per l'olio e l'aio, per la birra non esisteva, l'abbiamo creato noi di Apecchio, quindi ecco, siamo innovativi anche su questo. Punto per questo il sabato pomeriggio ci sarà una degustazione, assaggi di alogastronomia coltata da Slow Food Catra Nerone insieme all'Ais Montefeltro e all'Associazione delle donne della birra. Assaggeremo formaggi abbinati alle due birre blasonate di Apecchio, dei due birrifici blasonati da Apecchio, Amarcordo e Collesi e quindi i sommelier spiegheranno appunto gli abbinamenti, in che cosa consiste il vero abbinamento, il perché si abbina una birra a un prodotto tipico. La domenica mattina invece, sempre restando in tema birra, consegneremo il premio Apecchio Città della Birra ai due birrifici, Collesi e Amarcordo e lo consegnerà all'Onorevole Carloni insieme al conduttore di Radio 2 Tinto. Anche lui ormai è noto a Pecchiese, grande a Pecchiese doc perché ormai è nostro ospite da tanto tempo. Direi che ce n'è proprio per tutti i gusti, non mancheranno passeggiate, trekking, visite guidate, per cui, ripeto, in due giorni si concentrano tanti temi, tante attrazioni, tante possibilità di fruire di questo territorio che riteniamo essere proprio nel cuore dell'Appennino e essere veramente accattivante ed attraente.